Siamo qui a presentare la sesta stagione di teatro e musica allo spazio vuoto. Inizierà il 15 di gennaio e terminerà il 13 di maggio. Abbiamo 10 spettacoli di teatro in abbonamento e due fuori abbonamento e poi due spettacoli di musica jazz. Avremo grandi nomi del teatro da Paola Quattrini a Elisabetta Pozzi con diversi generi di spettacoli da un teatro più tradizionale a un teatro a una nuova drammaturgia con spettacoli anche più clauneschi e più divertenti per accontentare un po' anche tutti i diversi tipi di pubblico. Per il stesso anno consecutivo abbiamo una rassegna di teatro. Siamo molto contenti perché il pubblico ci segue e c'è richiesta di teatro, c'è bisogno di teatro in una città come la nostra. Diciamo che abbiamo sempre seguito un criterio di poter soddisfare tutte le esigenze. Quindi abbiamo vari tipi di teatro, vari spettacoli. Non tralasciamo la musica come ha detto Livia, il jazz che ormai ci segue quasi tutti gli anni. Da cinque anni ormai facciamo anche spettacoli dove c'è il jazz, rassegno dove c'è il jazz. E che altro dire, ci siamo focalizzati su tre elementi. Non abbiamo trascurato la giornata della memoria il 27 di gennaio, l'8 di marzo e poi un omaggio a un grande del teatro, Beckett, a 110 anni nel 2016 dalla sua nascita.